E buon salve ragazzi, buon salve a tutti e benvenuti a questo vlog, a questa occasione per chiacchierare un po'. Innanzitutto mi scuso nel caso in cui la voce dovesse sentirsi un po' nasale, un po' chiusa, ma ho un mal di gola. Ho un mal di gola, gli sbalzi di temperatura stanno colpendo pure me, però volevo fare questo dideino perché volevo un attimino parlare con voi del canale, ci tenevo quantomeno a discutere insieme a voi dove stiamo andando, dove siamo arrivati, cosa succederà in futuro, insomma è passato qualche mese dall'ultima volta che l'abbiamo fatto quindi volevo approfittare dell'occasione, di questo momento libero per appunto chiacchierare insieme a voi e per l'occasione infatti ho messo la telecamera così, in modo tale che posso muovermi liberamente posso andarmene dove mi pare e voi dovreste tecnicamente continuare a sentirmi magari quando andrò a guardare la registrazione sarà tutto muto, spero di no mi sono portato il telefono con le solite note e le informazioni di cui voglio parlarvi informazione numero uno, introduzione, fatta informazione numero due a fine 2023 avevo in mente di cambiare un po' stile del canale nel senso che, ne avevo già parlato, non mi piaceva la direzione che avevo intrapreso l'idea era quella di aumentare la quantità di contenuti che facevo a livello video anche due video o in qualche caso tre video a settimana al fine ultimo di, diciamo, venerare l'algoritmo di YouTube che di base premia chi fa più contenuti il problema qual è? È che per il tipo di contenuto che faccio io non posso andare tanto veloce quanto l'algoritmo vorrebbe vuoi puntare sulla quantità e allora devi fare un video al giorno, due video al giorno io riescivo a farne due a settimana, tre a settimana e morivo ed era un disastro e i risultati non sempre mi piacevano al punto tale che dei video li ho scartati altri li ho fatti uscire ma non mi avevano pienamente convinto insomma, non mi stava piacendo la direzione in cui stavamo andando e anche facendo questo tipo di lavoro non è che i risultati fossero tali da giustificare il tutto quindi ho cambiato un po' approccio invece che fare tot video a settimana uno, un contenuto a settimana più la live, più le live, più gli eventi e basta questo è quanto poi ovviamente ci possono sempre essere quelle occasioni in cui magari ne fai uscire due tipo questa settimana è uscito il video a inizio settimana e questo vlog che dovrebbe arrivare sabato quindi due contenuti però per il tipo di contenuti che ci stanno va bene è un caso la base è avere sempre e comunque un video a settimana e posso dire che me la sto vivendo molto meglio effettivamente il singolo contenuto a settimana mi sta aiutando parecchio riesco a starci dietro riesco a trattare gli argomenti di cui voglio parlare con la giusta attenzione ogni video posso dargli la giusta attenzione anche con video molto lunghi infatti siamo arrivati a i primi di marzo a inizio marzo e comunque sia ragazzi sono usciti un sacco di video lunghi è uscito la flop la top le classifiche video da 30 40 minuti il videogiochi da evitare che è durato un'ora quindi un video a settimana ho capito che è il mio ritmo è il mio ritmo ideale e parlando dei video innanzitutto grazie di cuore a tutti quanti perché tra top flop video i titoli che più mi interessavano del 2024 le compere videoludiche che sono arrivate videogiochi da evitare un sacco di gente l'ho vista molto partecipe vi ho visti molto partecipe in generale tante visual ma anche tanti commenti tante interazioni fatelo sempre perché il dio algoritmo vuole le interazioni se vi piace se vi piace il video mettete mi piace se volete scrivere un commento sapere la mia su qualcosa o fare un apprezzamento o fare una critica lasciate un commento e così via però scherzi a parte e sono molto felice di vedere che il canale stia attirando gente stia attirando attenzione da parte vostra i contenuti piacciono in generale la cosa che mi piace di più è vedere che i contenuti che faccio e sui quali spesso lavoro parecchio comunque stiano piacendo il videogiochi da evitare è andato benissimo veramente molto molto bene ma pure la flop hanno fatto entrambi tipo 6.000 visual quindi la top ne ha fatte 3.000 ottimi numeri ottimi numeri continuate così grazie di cuore per il trattamento riservato al videogiochi da evitare per l'entusiasmo che c'è stato dietro ve l'avevo detto io avevo in serbo per voi un altro videogiochi da evitare che avevo scartato e che sto rifacendo perché non mi stava piacendo il risultato generale nel fare questo Suicide Squad mi ero spaventato un pochettino perché dicevo oddio ma magari sono cambiate manco me ne rendo conto dopo 5 anni dall'ultimo video magari non gli piacerà come gli piacevano gli altri invece no ah vedete tutti che è una figata perciò top parlando proprio di videogiochi da evitare visto che qualcuno me l'aveva già chiesto avevo già risposto però lo faccio anche in vlog così almeno è disponibile per tutti no il video di Suicide Squad il videogiochi da evitare su Suicide Squad non sarà una tantum ho intenzione di far tornare tra parentesi regolarmente la serie in modo tale da avere ogni 8 mesi quel video che che tanto amate che tanto mi fa smadonnare perché credo si capisca che i videogiochi da evitare sono i video che mi richiedono più tempo più montaggio più lavoro anche soltanto a livello di scrittura il montaggio è una tragedia però nel vedere poi i risultati mi ripagate di tutta la fatica parlando di obiettivi di quello che voglio fare a livello di contenuti video posso dirvi che il mio intento è quello di avere video un po' più autoriali per l'appunto questi due mesi cosa abbiamo avuto abbiamo avuto le classifiche abbiamo avuto videogiochi da evitare abbiamo avuto le compere videoludiche video in generale che hanno una forte impronta personale video che appunto non voglio dire non è che non trovi da altri canali però video che sono molto personali e che quindi hanno comunque una hanno una loro personalità se io parlo di una recensione di un videogioco sì gli do comunque una mia impronta per carità però al contempo quello che viene detto il modo in cui viene detto lo si può trovare similmente in tanti altri canali una classifica un video di opinione un video giochi da evitare ma anche un compere videoludiche il modo in cui tratto l'argomento o gli argomenti è molto almeno secondo il mio punto di vista è abbastanza caratteristico gli da un'impronta personale e lo rende in qualche modo unico insomma vuoi vedere quel contenuto lo puoi vedere soltanto lì o quasi soltanto lì io voglio fare più video autoriali questo non vuol dire che non voglia fare recensioni ho intenzione di trattare diversi giochi vi posso ad esempio già dire che arriverà un video su Banishers arriverà quando l'avrò giocato un video su Final Fantasy 7 Rebirth però in generale non voglio concentrarmi al 100% sul soltanto parlare di videogiochi e basta cioè è uscito il titolo X e facciamo il video su titolo X è uscito il titolo Y facciamo il video su titolo Y no non mi interessa adesso come adesso fare quel tipo di contenuto voglio anche quello non voglio solo quello in tal senso proprio in questa considerazione ci tenevo in qualche modo a darvi una mia idea una mia idea molto specifica abbastanza importante su una serie che porta avanti sul canale che forse non porterò più di cosa sto parlando? sostanzialmente partiamo dai presupposti il mio canale vorrei farlo crescere wow chi l'avrebbe mai detto vorrei farlo crescere e per farlo crescere normalmente le strade sono due o tratti l'argomento del momento o magari sei abbastanza spigliato e riesci a trattare degli argomenti specifici attirando curiosità comunque sempre argomenti di un certo interesse generale oppure per l'appunto punti sulla quantità entrambi questi metodi generalmente hanno sempre funzionato infatti per fare un esempio specifico parlare male di un videogioco ti permette di ottenere molte più attenzioni rispetto al parlare bene di un videogioco è normalità è normalità in questo contesto visto che io non punto sulla quantità e considerando che non riesco a stare sempre appresso a tutte le novità dell'industria alle volte anche perché non è che mi interessi tantissimo vorrei puntare maggiormente comunque su quei video che almeno secondo il mio punto di vista possono avvicinare più pubblico cioè l'obiettivo comunque vuole essere quello di crescere e per questo motivo vorrei puntare su dei contenuti le cui informazioni sono più interessanti al grande pubblico per farvi capire non sono più così sicuro di che porterò avanti la serie le uscite mensili ogni mese voi lo sapete io faccio uscire un video alla fine del mese faccio uscire un video sulle uscite mensili del mese successivo che è poi quello che è uscito questa settimana a fine febbraio esce il video sulle uscite che più mi interessano di marzo perché vorrei far venire meno questo contenuto per due motivi in particolare il primo è perché le uscite mensili era un qualcosa che avevo ideato in un momento in cui da una parte non è che avessi idea di quale direzione far prendere al canale dall'altro lato mi ero detto vabbè tanto di contenuti ne faccio uscire anche due a settimana non è un problema adesso le cose sono cambiate perché adesso faccio un video a settimana e occupare ogni mese uno chiamiamolo slot per un un video di quel tipo è un po' uno spreco secondo il mio punto di vista sarebbe meglio questo è ovviamente il mio punto di vista credo che sarebbe meglio togliere quel tipo di prodotto di contenuto per far spazio ad altro che poi sia un video d'opinione una recensione uno dei miei video insomma mettiamola così anche perché e questo è il motivo numero due per cui vorrei toglierla togliere la serie detta molto semplicemente è la serie che viene meno vista sul canale cioè è quello che interessa meno e ci sta che sia così per l'appunto proprio come vi dicevo poco fa è anche una uno dei dei tipi di contenuti meno autoriali che ci siano è uno di quei contenuti che lo guardi da me lo guardi da un altro canale hai visto più o meno la stessa cosa poi sì ho cercato di dargli una mia impronta ho cercato di dargli comunque un mio stile però alla fin fine andate a guardare il video di falconero che lo fa ogni mese andate a guardare i player inside che lo fanno anche loro ogni mese tra l'altro spesso i player inside in particolare lo fanno in maniera molto più completa perché loro parlano di tutto quanto e non ha più senso particolare guardare il mio di video io so perché ovviamente ho i dati quali sono i tipi di contenuti che fanno meno visual in generale ci sono le uscite del mese che sono quello che fa veramente meno visual di tutto i vlog perché chiaramente è un contenuto molto privato e interessa soltanto alla parte di community che è molto legata al canale e poi le compere videoludiche le compere videoludiche però non è un problema e non è un problema per un motivo molto semplice perché sia le compere che i vlog non hanno una cadenza ogni tanto ne fai uscire uno lo usi anche come riempitivo magari però una volta ogni due o tre mesi ne fai uscire uno e sei a posto è diverso invece per le uscite videoludiche perché sono una volta al mese e ogni volta avere sempre un video al mese che ti underperforma è uno spreco perché potevo fare un contenuto che attirava maggiormente attenzione che faceva crescere di più il canale ed è uno spreco anche ai vostri occhi perché dite quella settimana esce qualcosa che non mi interessa personalmente io sono dell'idea che adesso io debba puntare prevalentemente su contenuti meno di nicchia puntare di più sui grandi numeri quindi con il mio stile con il mio mood con il mio modo di fare anche utilizzando le tematiche a cui sono abituato ma con l'obiettivo ultimo di avvicinare quanto più pubblico possibile e poi nell'ottica futura di avere un canale molto più vasto allora lì si può pensare anche di fare il contenuto di nicchia perché la questione è sempre quella se faccio un contenuto di nicchia oggi ottiene mille visual e youtube non lo considera proprio non lo fa minimamente girare in un futuro si spera in cui il canale è cresciuto e magari il contenuto di nicchia mi fa 10.000 visual tu dici vabbè ne fa sempre di meno magari al videogiochi da evitare che ne fa 50.000 butto numeri a caso però con 10.000 visual comunque youtube lo vede e lo e lo manda ad altri e comunque dice c'è un interesse e te lo puoi permettere la cosa è semplicemente quella quando hai un grande canale e quindi anche i contenuti di nicchia fanno comunque dei bei numeri puoi permetterti di fare quello che ti pare quando hai un canale più piccolino come il mio non è che te lo possa veramente permettere quindi la mia idea era questa togliere le uscite videoludiche mensili per far posto in quella data settimana a un contenuto nuovo considerate che io ho già una lista una potenziale lista che poi ovviamente cambia a seconda della situazione con ogni settimana di tutto l'anno e l'idea di cosa trattare di settimana in settimana cioè io ho una scaletta variabile anche a seconda di quello che viene annunciato dei giochi che devono uscire insomma a seconda di tante cose per carità però io ho già una scaletta scritta con l'idea del quando fare un video quando farne un altro considerate che la mia idea principale è che ogni mese esca almeno un video grosso un video ricco veramente grande un videogiochi da evitare o magari un argomento particolarmente corposo o magari un vita morte e miracoli perché continuerà nintendo switch vita morte e miracoli insomma una volta al mese avere il contenuto ciccione bello grosso che tanto piace e poi avere tutti gli altri vari contenuti da utilizzare non come riempitivi ma comunque sia avere quella certezza che ogni contenuto possa generare interesse perché poi è sempre questo tu non lo sai mai se il video che stai facendo piacerà o meno però ti puoi fare un'idea dal trascorso della tua storia io ho la sicurezza matematica che oggi le uscite video ludiche del mese non interessano fare un contenuto per mille persone su un canale da oltre 11.000 per carità sono comunque mille persone non è che sono noccioline alle volte manco 1900 800 però comunque sono tante nell'ottica di voler crescere non sono più così tante questa era la mia idea togliere questo tipo di contenuti per far spazio ad altri volevo approfittarne per chiedere anche a voi se questa idea sembrava apprezzabile interessante in realtà ne ho già parlato in privato sul gruppo abbonati tra l'altro anche quello devo dire un attimo una cosa ne ho parlato sul gruppo abbonati e più o meno anche lì mi è stato mi è stato confermato quello che già pensavo però gentilmente sarei interessato ad avere anche il parere generale del popolo fatemi sapere cosa pensate a riguardo di questa mia idea sareste d'accordo non sareste d'accordo non ve ne importerebbe nulla vi dispiacerebbe fatemelo sapere aggiungo questa questa piccolissima parentesi per ringraziare gli abbonati perché oggi siamo circa una quarantina di abbonati che sono uno sproposito per me grazie mille è vero che ci si può abbonare soltanto con un euro oppure da Twitch o col Prime quindi dici vabbè è una spesa da poco è comunque un investimento per il canale apprezzatissimo e ci tenevo a ringraziare veramente di cuore chiunque si sia abbonato al canale sia che vi state abbonati col Prime sia che vi state abbonati con un euro sia che vi state abbonati con 5 euro sia che ve l'abbiano regalato in ogni caso grazie 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 veramente continuate a farlo continuate a farlo aumentate sempre di più perché 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 serve perché serve no però scherzi a parte veramente grazie mille non mi aspettavo anche da questo punto di vista una tale attività vi adoro vi adoro detto questo piccola digressione per quanto riguarda invece le live stanno andando bene stanno andando veramente bene sia i quattro chiacchiere che le live sugli eventi che le live di Twitch in generale in ambito YouTube c'è molta partecipazione c'è molto interesse sia nei quattro chiacchiere sia negli eventi tanti commenti tante chiacchierate che rendono queste occasioni molto più divertenti i quattro chiacchiere in particolare a me continuano a piacere un casino proprio l'idea e vedo che anche a voi piace perché c'è tantissima partecipazione ed è sempre in continuo aumento cioè lentamente ma costantemente il numero di gente che decide di seguire in diretta questo tipo di eventi live che siano i quattro chiacchiere o gli eventi effettivi tipo i Nintendo Direct gli State of Play i grandi eventi videoludici c'è sempre più gente c'è sempre più gente c'è sempre più interesse e questo non può che rendermi estremamente felice lato Twitch sta succedendo la stessa cosa ovviamente in diciamo in uno stato di miniatura cioè i numeri non sono gli stessi mi guarda meno gente c'è meno gente in generale però è normale che sia così io in primis lo capisco proprio perché da una parte tante persone mi seguono su YouTube e non sono interessate a Twitch dall'altro lato tanta gente mi segue per determinati contenuti non certo per i gameplay però anche lato Twitch adesso che abbiamo questi due tre giorni di live a settimana e quindi c'è una un'idea un'idea non specifica ma comunque c'è un'idea di programmazione effettiva vedo con piacere che sempre più gente si collega nuove facce si fanno sentire altra gente che viene a guardare che fa il follow che si sub insomma anche su Twitch vedo una rifioritura dopo alcuni anni di stagnazione perché Twitch l'avevo un po' abbandonato adesso invece c'è del bel movimento e di questo sono felicissimo sono anche felice dell'idea che ho deciso di introdurre dove ogni domenica vi metto il palinsesto settimanale ho visto che comunque interessa a parecchi quindi continueremo ad andare avanti con per chi non lo sapesse ogni domenica alle 12 sul canale YouTube nella sezione community metto il palinsesto della settimana facendo anche un resoconto della settimana appena passata perciò nel caso in cui voleste rimanere aggiornati al 100% sul canale potete andare a controllare lì e più o meno bisabbasta mi si è spento il telefono c'era altro parlare delle live crescita e partecipazione grandi ragazzi programmazione Twitch come sta dando obiettivi per il 2024 molto velocemente in realtà allora l'obiettivo magia ma non è secondo me fattibile sarebbe figo ma non credo che lo sia non oggi sarebbe raddoppiare il numero di iscritti cioè proprio un obiettivo numerico siamo a 11.000 e qualcosa arrivare a 20.000 entro fine anno perché servirebbe uno sprint effettivamente per il canale servirebbe almeno nell'ottica di volerlo trattare come lavoro servirebbe uno sprint però io non credo che sia fattibile con il tipo di contenuti che faccio magari mi sbaglio magari mi sorprenderò magari con queste nuove idee che vi sto proponendo con il ritorno dei videogiochi da evitare con un palinsesto con più contenuti specifici sarà possibile però non ci metto la mano sul fuoco la vedo difficile l'unico obiettivo in realtà è quello di crescere aumentare sicuramente vorrei velocizzare quel processo di crescita che tanto serve e che fin troppe volte ho missato ho mancato l'obiettivo mancato nel 2023 eravamo cresciuti più del normale però non eravamo cresciuti poi così tanto vorrei cercare ancora di più tramite contenuti giusti tramite i video giusti tramite le live tramite la partecipazione e quant'altro vorrei cercare di velocizzare quel processo di crescita ovviamente dipende tutto da me però diciamo che potete anche aiutare voi se volete appunto commentate mettete mi piace condividete sono tutta roba che youtube tiene conto che il dio algoritmo tiene conto perciò sappiatelo non sentitevi costretti assolutamente non sentitevi obbligati però se lo fate sarà molto apprezzato questo era più o meno tutto quello che avevo da dire io vi ringrazio e mi scuso mi scuso perché non avendo un a parte la scaletta non mi sono scritto niente quindi magari è stato un video un po' confuso io con i vlog sono così un po' alla rinfusa e non sono particolarmente bravo nel parlare a braccia sono un tipo che preferisce avere un copione però in questi casi preferisco che sia più diretto più una cosa buttata lì nel momento che ci penso ve la dico quindi gente io ancora una volta vi rinnovo i ringraziamenti per quello che mi state dando comunque sia io ripeto youtube lo vorrei trasformare in un lavoro a tutto tondo bisogna vedere se è fattibile anche per me se sono in grado di fare una cosa del genere adesso che ci ho messo mano in maniera pesante bisogna dare un po' di tempo rodare provare sto cambiando delle strategie sto cambiando delle idee sto modificando delle cose di volta in volta per cercare di trovare quel bilanciamento perfetto con questo sistema del video a settimana più video di contenuti meno di nicchia e quant'altro forse abbiamo trovato la strada giusta però è da vedere grazie però di tutto quanto grazie perché al di là di tutto se anche non dovesse funzionare comunque di nuovo vedervi così partecipi così interessati così spronati a voler partecipare alla vita del canale non può che riempirmi di gioia e farmi sentire soddisfatto di tutto il lavoro che sto portando avanti quindi gente detto questo io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione gentilissimi noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo contenuto che se non se se tutto va bene dovrebbe essere il contenuto relativo alla recensione di Banishers Ghost of New Eden che sto portando avanti di cui abbiamo di che parlare e niente ragazzi grazie ancora di tutto noi ci rivediamo in un prossimo video in una prossima live youtube o su twitch grazie ancora di tutto noi ci rivediamo alla prossima ciao ragazzi